Camp, ripartenza dopo il calcio di punizione, gol dello United dal nonno minuto. Capita spesso di avere un'occasione da gol, di non sfruttarla e poi l'azione successiva di prendere gol. Qui sono usciti in tanti, sono usciti con grande velocità. Ti dicevo prima, vedremo spesso Valencia da una parte e Darmian arrivare dall'altra. Vediamo se c'è anche il tocco del difensore. Secondo me no, è arrivato bene, vediamo. Questa volta Darmian ha messo un'ottima palla. Forse lo tocca poi dopo la testa con la coscia. Con la coscia dopo, però è comunque con il gol di Mkhitaryan. Rivediamo ancora. Vedi che arriva. Probabilmente cerca di colpire.